Buonasera amici e amiche di Vivi Casagiove, siamo all'interno del Palazzo Ducale di Lusciano con il delegato provinciale della FIGICI di Caserta, il Dottor Beatrice. Buonasera Dottor Beatrice, un saluto. Buonasera a tutti quanti, ai vostri telespettatori, è un piacere essere qua a questo convegno organizzato per una giornata dello sport, mi sembra giusto che la mia presenza in questa sede sia in qualche modo a testimoniare la federazione nei confronti dello sport. Allora Presidente, io partirei subito con una prima domanda, il connubio sport salute, quanto è importante? Beh certo, insomma è qualche cosa che noi conosciamo da sempre, sport e salute vanno a braccetto da tempo immemorabile, insomma tutti quanti, non è il caso di ripetere ma forse è il caso di aggiungere ancora una volta che mens sana e incorpore sano sono due fattori che storicamente hanno accomunato l'attività sportiva, diciamo così. Si è sempre saputo che chi fa sport, oltre ad avere un beneficio fisico, ne ha anche un beneficio dal punto di vista psicologico e mentale, quindi è assolutamente consigliabile fare sport, qualunque tipo di sport. Beh certo se si fa calcio, considerando che sono il presidente del delegato FIGICI provinciale, è qualche cosa che Cicero Prodomo sua sicuramente mi farà più piacere. Ma lo sport in genere è quello che aiuta il fisico e la psiche. E Presidente, una seconda domanda, i controlli nello sport, quanto sono importanti? Beh sono fondamentali, perché se uno si avvicina a una pratica sportiva è giusto che faccia un controllo preventivo per sapere se effettivamente è in grado di fare sport, perché poi non dovrebbe determinarsi l'eventualità che chi fa sport per stare bene finisce per poi star male perché una pratica sportiva gli è vietata. Quindi i controlli sono essenziali e la federazione da tempo ha stabilito dei canali attraverso i quali fare i controlli. Per quanto riguarda i calciatori ci sono dei siti dove è possibile addirittura prenotarsi, il medico di medicina sportiva fa la certificazione per gli atleti che vogliono fare la pratica del gioco del calcio, praticare il calcio. E per i ragazzi ancora diciamo che sono più piccoli c'è addirittura l'esenzione ticket se si fanno degli esami opportuni per praticare il calcio. Presidente noi parliamo quindi di salute, di benessere, vogliamo spiegare che cos'è il microcredito? Beh non c'entra moltissimo con la salute ma è un'opportunità che proprio da quest'anno, lo stavamo studiando già da prima, ma il microcredito è una possibilità di accedere a un microcredito che non sia molto alto da parte delle società perché c'è stato uno studio che abbiamo fatto come federazione con alcune banche per garantire un'erogazione di un credito con un pagamento reateizzato per venire incontro alle società perché ci rendiamo conto tutti quanti, non lo vedo solo io, che viviamo in una situazione in cui la congiuntura economica è particolarmente sfavorevole. Presidente un saluto ai lettori e alle elettrici di Vivi Casagio. Beh io li saluto a tutti quanti e mi auguro che ci sia sempre questa vicinanza della televisione, dei massimi di eccetera nei confronti del fenomeno calcio e ovviamente un saluto a tutti quelli che vedranno anche attraverso il mezzo televisivo manifestazioni di post sportive e il calcio in particolare. Ringraziamo il Presidente Beatrice per averci concesso l'intervista, da Vivi Casagio è tutto. Amici e amiche di Vivi Casagio, buonasera, siamo all'interno del Palazzo Ducale di Lusciano con l'assessore alle attività produttive Giuseppe Mariniello. Partiamo proprio da questa domanda, ma prima un saluto ai lettori e alle elettrici di Vivi Casagio. Guarda, noi in qualità di assessore io mi auguro che innanzitutto come questo convegno che stiamo facendo stasera a Lusciano si iniziano man mano a fare in tutti i paesi della provincia di Caserta, perché parlare dello sport è la cosa più importante che può esistere soprattutto per quanto riguarda la nuova generazione, perché oggi con tutti i problemi che teniamo in Italia ci si cerca anche di dimenticare che lo sport è salute. Quindi lo spirito iniziale per quanto mi riguarda per questa iniziativa è proprio ingrucare nella mente di tutti di iniziare a fare sport, che con lo sport è come la cultura, ti porta sicuramente a dei risultati migliori sia per la crescita personale che sia per la crescita della collettività. Oggi noi ci troviamo di fronte a una realtà, una crisi totale e quindi io per questo motivo voglio partire dalla base da quanto al momento in cui sicuramente tutti quanti sapete che all'inizio lo sport è nato per motivi di esigenza, la palla è nata perché nel momento della guerra ci serviva per combattere. Altri attrezzature che oggi è la scherma e cose ci servivano per difendere la nostra persona. Quindi io voglio partire dall'era in cui man mano poi ci siamo arrivati a oggi. Quindi io credo e spero che tutti gli altri amministratori della provincia di Caserta inizino a fare le proprie strutture e per le proprie strutture che hanno sul proprio territorio, soprattutto a livello scolastico, a livello di centro sportivo, di mettere a disposizione dei propri di tutti i ragazzi della provincia di Caserta. Questo è uno sprono che faccio a me ma rivolgendomi a tutti quanti gli amministratori e sono certo e sono convinto che bisognava iniziare. Siamo iniziati da Luciano quindi io magari che tutti riuscite a far sì che tutto ciò si può accadere. Un'altra domanda Assessore. Allora il messaggio che viene lanciato alle istituzioni è al mondo dello sport. Sì, il messaggio che viene mandato all'istituzione è al mondo dello sport perché come dicevi è importantissimo che i ragazzi crescono sani. Quindi per far sì che i ragazzi crescono sani le istituzioni devono dare lo spazio utile a questa nuova generazione. Quindi nei propri impegni politici bisogna dare uno spazio in massimo allo sport. Che significa per quanto mi riguarda lo sport? Non solamente dire la parola sport. Come dicevi, di crearci delle strutture e far sì che i ragazzi iniziano a frequentare lo sport dalle scuole elementari affinché non ci si arriva all'università. Facendo due cose importanti perché le istituzioni devono capire che oggi come oggi, visto che non abbiamo più la possibilità di dire vicino ai nostri ragazzi dopo il lavorato su c'è un posto di lavoro, ma con lo sport puoi anche dare occupazione a lavorativi. In che senso? Vedete tanti ragazzi che escono tanti campioni sia a livello calcistico, sia a livello di schermo, sia a livello di giudo e di altre discipline. Quindi questo deve significare che facendo sport si fa due cose importanti. Uno per la salute e l'altro per creare lavoro sul territorio. Sono certo e sono convinto che le istituzioni devono veramente impegnarsi tanto sulla problematica dello sport. Un'altra domanda, Assessore. I valori che vengono lanciati e soprattutto se lo sport può combattere la violenza? Guarda, io sono arciconfinto che lo sport può combattere la violenza e sono arciconfinto che facendo sport sicuramente creiamo le condizioni che i ragazzi non si lasciano prendere dalla violenza, non si lasciano prendere da cose diverse e soprattutto dalla droga. Quindi io perciò, ripetendo, scusate se forse faccio un gioco di parole, ma l'obiettivo e principale è proprio questo qua. Fare sport significa portare i ragazzi con questa nuova generazione di un modo sano. Fare sport significa che domani mattina chi sicuramente fa sport può dare un proprio contributo alla nazione italiana, che noi tutti italiani ne abbiamo bisogno. Mi auguro e sono accerto e sono convinto, come diceva anche il nostro Presidente provinciale, che finalmente la provincia di Caserta occupa un ruolo importante a livello nazionale. Io spero che questo ruolo importante a livello nazionale cresca giorno dopo giorno e soprattutto consentitemi, è vero che sono Assessore provinciale di tutta la provincia di Caserta, ma con orgoglio e con soddisfazione, qui stasera a Lusciano, nel mio territorio di nascita, dico e vive lo sport e vive i ragazzi che rappresentano lo sport a livello internazionale. Bellissimo. Allora, Assessore, facciamo un saluto ai nostri lettori e alle nostre elettrici di Vivi Casagiove. Io mi auguro che sicuramente tutti insieme possiamo far sì che lo sport cresce e insieme all'indomani che ci incontriamo diciamo viva l'Italia e viva lo sport. Ringraziamo l'Assessore Mariniello per averci concesso l'intervista per Vivi Casagiove e tutti. Buonasera, amici e amiche di Vivi Casagiove, siamo all'interno del Palazzo Ducale ed è un grandissimo onore avere ai nostri microfoni il Presidente della provincia di Caserta, l'On. Domenico Zinzi. Un saluto al Presidente. Bene, grazie. Un saluto a tutti i telespettatori, gli utenti di questa vostra trasmittente. Siamo qua a Lusciano in un convegno di sport. Diciamo che è stata una bella cosa, ben organizzata e credo che intorno alla squadra locale ci c'è tanto entusiasmo ma c'è soprattutto tanta attenzione per lo sport. Presidente, una prima domanda. L'impegno della provincia di Caserta nel riqualificare gli impianti sportivi di terra di lavoro? Noi possiamo vantare una condizione buona per presenza di impianti sportivi, tenuto conto che teniamo degli impianti di caratura nazionale, nel senso che in tutta Italia sono pochi impianti come il nostro, il riferimento è allo stadio del nuoto, dove ci arriva gente un po' da tutta Italia ad allenarsi da noi e anche dall'estero. Questo sta a significare che c'è stata una buona programmazione per il passato e noi oggi continuiamo ad arricchire la nostra provincia di impianti toni. Tanto è che c'è stato poco tempo fa questo raduno del CONI che ha portato 2.000 atleti in provincia di Caserta. In quell'occasione abbiamo ricevuto anche le attenzioni e i complimenti del Presidente Malagò perché non a caso il CONI ha scelto di venire a Caserta per fare questa manifestazione nazionale perché i nostri impianti sono conosciuti e quindi una tre giorni a Caserta ho trovato lo spazio per ospitare le gare di 2.000 atleti. Presidente, quanto è stato importante l'incontro con il Presidente del CONI nazionale Malagò? È stato importante se vogliamo solo considerare che con lui si è discusso di impiantistica. Ovviamente tutto questo è possibile perché la provincia di Caserta è in temi sportivi ma soprattutto ha una buona organizzazione in tutte le discipline. Teniamo tanti atleti che guadagnano medaglie d'oro e teniamo in una classifica nazionale che siamo una provincia che è in una posizione molto alta. In quell'occasione con il Presidente Malagò abbiamo parlato di come realizzare Caserta e provincia, nuovi impianti, anzi si è parlato di qualcosa in più, insomma è molto probabile, dico molto probabile perché su questo tema converge la volontà della Regione Campania, nella persona del Presidente, dello stesso Presidente Malagò e ovviamente c'è l'impegno, loro hanno assunto con me questo impegno di voler realizzare un impianto multidisciplinare, una sorta di villaggio CONI da realizzare proprio qua a Caserta da noi. Quindi noi ci proviamo, ci stiamo impegnando e cerchiamo di realizzare questo progetto di cui Malagò è sostenitore. Ecco, quindi impegno, valore, lei Presidente, da Autorità della provincia di Caserta, qual è il valore ma soprattutto il messaggio che viene lanciato stasera da questo convegno? Io credo che lo sport è salute, lo sport è recupero sociale, lo sport porta avanti dei valori importanti, insomma e quindi credo che in questo senso ne vale la pena, ecco che le istituzioni e tutti noi anche come semplici cittadini siamo qua a sostenere lo sport, a invogliare i giovani ad avvicinarsi allo sport e in questo senso facciamo qualcosa di veramente meritorio. Ringraziamo il Presidente della provincia di Caserta, l'Onorevole Zinzi. Presidente, un saluto ai lettori ed elettrici di Vivi Casagiove. Beh, io credo che Vivi Casagiove ormai è un emittente che si fa già apprezzare, si fa vedere, per cui un augurio a voi, ecco che avete un palinzesto insomma di tutto rispetto e ovviamente a chi vi segue insomma trova anche il gusto di vedere la vostra emittente e trovare soddisfazione. Ringraziamo per i complimenti il Presidente della provincia di Caserta, l'Onorevole Zinzi, da Vivi Casagiove e tutti. Ringraziamo il Presidente della provincia di Caserta.